Si dice che ogni strada porti a Roma, ma anche che tutte le gravel portino sui sentieri del commissario Saligari. In questo nuovo caso lo troviamo impegnato sui sentieri di Romeo e Giulietta, alla ricerca di indizi sul loro grande amore. Una via fatta di bellezza e misteri, perfetta per le nostre indagini. Continuo il mio viaggio su Terre Nobili. Mi trovo sulla terrazza panoramica del Monte Berico. Sotto di me Vicenza, uno dei nove siti UNESCO del Veneto. Questo in particolare dedicato alle opere del Palladio. Siamo nell'ambito del progetto Terre Nobili e Gravel in the Land of Venice, che ha tracciato 80 percorsi, partendo dalla marca trevigiana, per poi proseguire su tutti i territori provinciali. Incontriamo un amico delle gravel del commissario a farci la guida. Massimo, di nuovo insieme. Ciao Marco. Terre Nobili, oggi cosa scopriamo? Oggi ci troviamo a Montecchio Maggiore, Shestir, Giulietta Romeo. Quindi insomma, viaggiamo verso l'amore. È un percorso unico oggi, perché noi abbiamo l'amore verso la bicicletta in un territorio caratterizzato da questa storia unica al mondo, di due giovani che si amavano. Amore, arriviamo. Oggi alterniamo parti di strade bianche con parti di strada in cemento. Ma la cosa che mi ha stupito di più è che siamo immersi, come sempre nella natura, ma in mezzo ai vitigni. Qui siamo nella zona del Soave, quindi veramente una delle eccellenze dal punto di vista della viticoltura veneta. Siamo tra Monteforte e Dalpone, appunto l'omonima Soave, siamo in territorio veronese. Ci siamo spostati da Montecchio Maggiore, dove eravamo sul percorso di Giulietta Romeo e adesso ci stiamo addentrando nel percorso che abbiamo denominato la Scaligera. Scegliere una bici da gravel per la sua geometria e per il braccetto del cambio posteriore più lungo, che vi permette di utilizzare rapporti molto più corti, aiuta tantissimo a superare le pendenze più armi. E questo tratto di percorso, quanti chilometri è più? Il trasferimento da Monteforte a Soave sono circa 10 chilometri. Appunto è un'alternanza, come dicevi tu, di fondi sterati, cementati, immersi in un panorama che è unico. Veramente qui, nonostante l'impegno della salita, bisogna avere la forza di alzare la testa e guardarsi attorno, perché è uno spettacolo a tutto tondo. La bicicletta da gravel ha bisogno di particolare manutenzione, non solo nella parte della trasmissione, ma soprattutto nella parte frenante, perché si utilizza in mezzo alla polvere e al fan. Sono partito da Vicenza, arriveremo a Verona. E poi perché Romeo e Giulietta? Il percorso è dedicato appunto a Romeo e Giulietta, perché per noi è un viaggio ideale nell'amore, non solo l'amore raccontato nel dramma di Shakespeare, ma anche l'amore legato all'andare in bicicletta, l'amore per questo territorio. E se ci guardiamo a tutto tondo è uno spettacolo incredibile. Quindi l'abbinamento dei nomi che dicevo prima non è casuale, ma vuole ricondurre a dei tematismi specifici del percorso. Romeo e Giulietta, anche la storia d'amore più famosa della storia, ha trovato spazio tra queste gravel. Il commissario Saligari ne ha ripercorso la trama tra salite e discese di sterrato, apprezzandone la selvaggia bellezza, complice anch'essa forse, dell'inevitabile destino. Grazie! Grazie!